8, 4, 4, 4, ok, ci siamo tutti al fondo, allora questo è un rituale, diciamo per voi in giù dell'amore, per loro dell'amicizia, ma vedo che non avete preso le carte, quindi meglio così, rituale dell'amore. Ok, avete tutti 4 carte? Allora, mischiatele, poi tagliate, tagliare cosa vuol dire? Vuol dire prendere 1, 2, 3 carte dalla cima e metterle sotto, ok? Date un taglio, quando siete a posto me lo dite, vi fermate e prendete le carte in questa posizione qua, ok? E le strappate, dobbiamo strapparle, tenete un mazzetto da una parte e un mazzetto dall'altra, tutte e quattro? Tutte e quattro, insieme, strappate, chi siete? Ok, il mazzetto di destra lo mettete sopra il mazzetto di sinistra, ok? E avete un pacchettino di carte, prendete da sopra 3, 4 carte, quello che volete voi, scegliete, le prendete, io ne prendo 2 e le sposto sotto, tagliate ancora una volta, quindi spostate quante carte volete, le mettete sotto, ok? Insieme, perfetto, adesso prendete, le aprite a ventaglio e prendete le prime 3 carte in cima, i primi 3 pezzetti in cima e le perdete in mezzo al mazzetto, ok? Le prime 3 dalla cima le perdete in mezzo al mazzetto, ah, adesso vi stavo dimenticando una cosa, ricomponete il mazzettino e prendete il primo pezzettino sopra e lo mettete da una parte, ok? Attenzione a non perdere, non il ritore dell'amore prendete una carta se siete molto fortunati in amore, due carte se siete così così fortunati in amore, tre carte se siete sfortunati in amore e le prendete e le perdete in mezzo al mazzetto, io che sono fortunatissimo con mia moglie lì le prendo 4 e le metto in mezzo al mazzetto, né in cima né in fondo, ok? Inserisco in mezzo, se volete fatelo intorno a volta, scegliete un numero da 1 a 3, prendete i pezzetti da sopra e li perdete in mezzo e sopra né sotto, se volete cambiate anche il primo pezzetto che avete lo cambiate col vostro vicino e questo pezzetto qua lo perdete anche questo in mezzo, sopra né sotto, ok? Perfetto, ora entriamo nel clou di questo rituale. Come abbiamo detto prima, una se siete fortunati, due così così, tre se siete sfortunati, prendete le carte quante volete in mano, uno, due o tre, i pezzettini, prendeteli in mano così e quelle che volete, uno, due o tre dalla cima, ok? E per mandare via la sfortuna in amore le lanciate in alto facendo... Perfetto! Mi ero dimenticato di dire che questo rituale dura solo una settimana, quindi per configurare il rituale per una settimana prendete il primo pezzetto e lo mettete sotto e dite lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Ok, il mazzetto è pronto, ora viene il bello. Prendete la prima carta e dite mi ama e la mettete sotto, ok? Quella dopo la prendete, non mi ama e... Di nuovo mi ama e la mettete sopra... Quella sopra la prendete e dite non mi ama... Ancora sotto mi ama... Non mi ama... Dovete arrivare ad avere un pezzettino solo in mano, quindi io ne ho ancora due, mi ama e non mi ama... Fino a rimanere con un pezzettino solo in mano... Allora... Se tutto è andato bene avete sette giorni di amore... Se tutto è andato bene avete sette giorni di amore... Un applauso a chi è riuscito... E soprattutto un applauso a chi non ci è riuscito... E a tutti i ragazzi venite qua ancora...